molto particolare lei va a scuola non possiamo dire il nome della scuola possiamo dire solo Ken Friuli possiamo dire Ken Friuli a lei l'hanno mandata via posso dirlo, l'hanno cacciata perché fa OnlyFans e io ho detto ma come si togli il diritto allo studio a una persona perché fa OnlyFans penso sia una cosa abbastanza grave quindi racconta a piede libero tutto bene ero a Milano per degli shooting e mi hanno chiesto di anticipare il mio ritorno da Milano appunto e di presentarmi a fare un colloquio con la scuola ok va bene io ho accettato chiaramente perché comunque è la mia scuola quindi magari abbiamo qualcosa di importante da dirmi mi presento e mi comunicano che io non avrei più potuto frequentare la scuola perché faccio OnlyFans cioè questo loro danno ma scusami ma in teoria non lo potrebbero fare però una cosa del genere eh no no di fatti il giorno dopo io mi sono messa a piangere lacrimoni perché comunque sono state dette cose anche abbastanza forti in questo primo colloquio e molto forti che non mi sarei mai aspettata ma da parte di chi si può dire o non si può dire ci sono delle cose siccome c'è un avvocato di mezzo esatto ci sono delle cose ragazzi che si possono dire e non si possono dire eeeh che senso si sta bocciando vabbè no ma non legge tu racconta a tua bom eeeh in pratica è successa questa cosa qua eeeh ho richiesto un colloquio con mia mamma perché cioè a me sentire questa cosa qua sembrava incredibile allora il giorno dopo mi sono presentata con mia mamma e abbiamo ritrovato la medesima situazione un po' più pacata dicendomi che proprio però per via di OnlyFans io non avrei più potuto frequentare la scuola ecco eeeh e quindi mia mamma ovviamente ha chiesto ma lo potete fare questa persona qua ha affermato di sì una persona possiamo dire chi non si può dire chi vabbè immaginate senza dirvelo eeeh questa persona qua ha detto che poteva prendersi la briga di fare questa determinata cosa quindi di togliermi il diritto allo studio eeeh però però questa persona qua mi ha detto ti lascio una possibilità se ti iscrivi a un corso che ti viene 4000 euro in più e tu stai dentro la scuola se no puoi andare fuori cioè questi ti hanno detto questa è una scuola privata sì loro ti hanno detto del Friuli del Friuli non diciamo quale eeeh cioè praticamente questi ti hanno detto eeeh tu non puoi continuare a frequentare la scuola perché usi OnlyFans mhm però se ti iscrivi è un altro un altro corso sì con pagando 4000 euro in più se ti iscrivi puoi sì noi non ti vogliamo dentro la scuola perché fai OnlyFans mi hanno detto chiaramente ok però mi hanno detto ma se paghi 4000 euro in più in sostanza e fai da privatista sempre all'interno della scuola eeeh puoi rimanere porco dince già e ovviamente a questa cosa qua non ci sono stata perché tu non cioè non è giusta non è una cosa giusta ho sentito subito l'avvocato eeeh e niente adesso siamo per mani di avvocati eeeh io dico solo che il nove abbiamo ricominciato scuola ok eeeh il mio avvocato mi ha detto di presentarmi comunque perché perché ci sono delle procedure che non sono state fatte comunque da parte della scuola eeeh appunto il mio avvocato mi ha detto presentati tu comunque il nove io sono andata tranquillamente a scuola e loro si sono messi davanti davanti la porta della classe vado a parlare il microfono scusa davanti la porta della classe ad aspettarmi e non farmi entrare in classe chi è che si è messo davanti la porta della classe non si può dire non si può dire a delle persone delle persone si rappresentanti della scuola possiamo dire e no non si può dire non c'è generalizziamo ok non diciamo chi comunque eeeh delle persone si sono messe davanti alla classe non miei compagni di classe chiaramente non professori e impedendomi l'entrata in aula e io ho chiamato la polizia perché l'avvocato mi ha detto chiama la polizia se ti fanno una cosa del genere ho chiamato la polizia sono arrivati hanno fatto un rapporto hanno sentito la mia versione hanno sentito quella c'è prima quella dei della scuola in generale eeeh lì ho chiamato chiaramente la polizia perché l'avvocato mi ha detto chiamala solo che il mio avvocato mi sono dimenticata di chiedere io che cosa dire cioè per quale motivo in pratica non potevano per quale motivo in pratica non potevano mandarmi via dalla scuola non farmi entrare in aula non l'avevo chiesto poi ho scoperto che appunto era per via delle procedure che non sono state fatte e quindi io non sono entrata comunque a scuola cioè nonostante questa cosa qua non sono entrata a scuola nonostante il rapporto della polizia di questo e di quell'altro non ho potuto frequentare la scuola e tutto questo per OnlyFans tu hai pagato la scuola vabbè ma scusa ma non hai pagato la paghiamo le rette sì eppure anche se è una scuola privata non c'è scritto da nessuna parte che io se ho OnlyFans non posso far scuola però adesso appunto siamo in mano di avvocati ma oltre questo ti hanno detto qualcosa nello spio perché no io ho sottolineato il fatto che comunque nella mia bio di Instagram ad esempio bio di TikTok bio di OnlyFans bio di qualcosa no in qualsiasi bio non c'è scritto dove vado a scuola ok che scuola frequento e e quindi cioè io comunque non metto la scuola in mezzo poi non è che vendo contenuti che faccio contenuti dentro la scuola e li rivendo quindi boh scusa ma che cioè che interesse ehm nel senso che 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 cazzo gli frega eh cioè l'importante è che tu vai a scuola e vai a studiare che cosa gli frega alle persone che ti hanno detto di no del se fai OnlyFans al di fuori guarda mi hanno tirato in ballo la questione minorenni ma la questione minorenni non si pone in quanto mi hanno detto che ci sono minorenni all'interno della scuola quindi io non posso calzordi tu eh a meno che non sia maggiorenne non puoi comunque accederci accedervi e quindi tu sei maggiorenne no esatto tu sei maggiorenne e fai l'HollyFans no pe eh purtroppo però questa gente appunto non ha deciso di mischiarsi nella mia vita privata e quindi io attualmente sono senza scuola no regà non sto a ignorare la chat vi sto leggendo ma sto ascoltando se no perdo il filo del discorso ruby si chiama danno di immagine a prescindere dal tipo di contenuti la scuola tutela la sua immagine dicono vabbè ma che c'entra ragazzi ma si non c'entra assolutamente nulla perché almeno da quanto stiamo parlando noi con l'avvocato si sta parlando di diritto allo studio appunto cioè di di un diritto di una persona quindi c'è una cosa grave se viene violato cioè tu mi stai togliendo la possibilità di studiare però al contempo mi dici se paghi 4.000 euro in più puoi rimanere all'interno della scuola all'interno della scuola Grazie.